e ti saluto con la pace del signore buongiorno buona domenica oggi 10 di novembre 2024 anche oggi ascolteremo il messaggio che viene dalla parola di dio che ho fiducia che parlerà al nostro cuore ci fortificherà ci benedirà perché è così che dio ha stabilito per la vita degli esseri umani la forza viene dall'ascolto della parola di dio e quindi noi vogliamo dire signore parla al mio cuore perché abbiamo bisogno abbiamo fame e abbiamo sete di giustizia amen gloria a dio dice così la parola del signore signore tu sai quando mi siedo e quando mi alzo tu comprendi da lontano il mio pensiero testo che troviamo nel salmo 139 i versetti 1 e 2 ed ancora il signore scruta tutti i cuori e penetra tutti i disegni e tutti i pensieri meraviglioso versetto che troviamo nel primo libro delle cronache capitolo 28 versetto 9 il titolo di questo messaggio è questo dio mi conosce a fondo signore tu mi hai esaminato e mi conosce tu sai quando mi siedo e quando mi alzo tu comprendi da lontano il mio pensiero tu mi scruti quando cammino e quando riposo e conosce a fondo tutte le mie vie poiché la parola non è ancora sulla mia lingua che tu signore già la conosci appieno tu mi circondi mi stai di fronte e alle spalle e pone la tua mano su di me la conoscenza che hai di me è meravigliosa troppo alta perché io possa arrivarci sappi questo fratello sorella amico amica dio è onnisciente conosce tutto dell'universo e degli uomini che meraviglia quando comprendo che è il solo a conoscermi profondamente che vede tutte le mie vie dalla mattina alla sera non gli sfugge alcun dettaglio nemmeno il più banale i capelli del vostro capo dice il signore sono tutti contati matteo capitolo 10 verso 30 egli discerne l'origine di tutti i miei pensieri e le mie motivazioni se apro la bocca sa cosa sto per dire prima che mi invochino dice il signore io risponderò parleranno ancora che già li avrò esauditi ora questa onniscienza di dio dovrebbe rassicurarmi perché posso contare sulla sua protezione come un bambino che tiene la mano di suo padre ma come posso vivere concretamente questi versetti condividendo con dio tutti gli aspetti della mia esistenza gioia dolori errori è impossibile nascondersi quando il signore ci parla ascoltiamolo i testi delle sagre scritture illumineranno la nostra vita e i nostri pensieri scopriremo questo lato meraviglioso di dio e gli innalzeremo la nostra lode perché perché scopriremo che dio è buono e la sua bontà dura in eterno puoi dire amèn insieme a me e allora dai gloria a dio e glorifichiamo il nome del signore ti saluto ci vediamo domani con la pace di gesù grazie a tutti